Ciao a tutti, sono Alessio della concessionaria Flycamper e sono a presentarvi un bellissimo van furgonato con doppio letto matrimoniale posteriore adatto sia per una famiglia sia per una coppia. Signore e signori, ecco a voi lo Chanson V594 Max Roadline VIP montato su Citroën 2.2, 140 CV. Il veicolo ha 4 posti letto ed è omologato 4 posti per viaggiare. La lunghezza è di 5,99 m. Buona visione! La lunghezza è di 5,99 m. Buona visione! La lunghezza è di 5,99 m. Buona visione! Venite a trovarci a Figline e Incisa Valdarno, vicino Firenze!